Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini per parlarvi di Dungeons & Dragons, altri giochi di ruolo e cose fantasy a partire dal nostro background. Ma oggi siamo qui con un ospite speciale con cui parleremo di divulgazione sui social network, magia, evoluzione e mostri. Vi presentiamo Willy Guasti, naturalista e divulgatore scientifico, fondatore del progetto Zosparkle e autore del libro Il coccodrillo al cuore tenero. Ma prima, la sigla di Supernova Collective. Mentre salite i gradini della torre, che scricchiore geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli, sapete già che dovrete affrontare un drago. Ma questa volta sono due. E hanno un microfono. Ciao Willy, benvenuto nel nostro podcast. Ciao Giada, ciao Emilio, grazie mille a voi per avermi coinvolto. Grazie a te per partecipare, è un piacere averti qui con noi. E la prima domanda che facciamo sempre è come stai, come va? È un po' stanco, non so, si diceva prima di far partire la chiamata, insomma. Sono un po' preso da un sacco di roba in questo periodo, vuoi anche perché comunque è uscito di recente il mio libro, quindi lo sto un po' promuovendo in giro, più tutte le varie cose che già facevo prima, quindi video, Instagram, YouTube, tutto quanto, più ovviamente sono anche ripartiti gli eventi rispetto all'anno scorso, quindi in più c'è anche quelli. Quindi diciamo bene, eh, non è per lamentarsi, sono perfettissimo, non si intende, però un po' stancante, ecco, prima o poi mi riposerò. Non so quando, ma... Ci sono un sacco di autori, tra l'altro, che descrivono i propri libri come dei figli belli e tutto, farli crescere, ma prima riesci a calciarli via, a farli uscire di casa, meglio è per la sanità mentale di tutti. Sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro è un libro sulle cure parentali, tra l'altro, quindi si inquadra proprio perfettamente in questa visione. Tu sei sempre presissimo, fai un sacco di cose, ma sei anche sempre super disponibile. E infatti volevo aprire questa intervista raccontando il mio primo incontro con te, perché un anno fa, in realtà è qualcosa di più, ero in vacanza in Toscana con un'amica, Viola, e rientrate da un pomeriggio in piscina ci siamo accorti che nella nostra stanza c'era un ragno, che in realtà ci sembravano due ragni che si stavano accoppiando. E quindi noi, che siamo molto social, abbiamo ripreso la situazione e abbiamo taggato Willy chiedendo conferma che fossero due ragni che si stavano accoppiando. Lui gentilmente ha ripostato la storia dicendo che in realtà non era un accoppiamento, ma era un ragno che stava facendo la muta. E già qui la dice lunga sulla preparazione scientifica di questi host. Però appunto io, tutta contenta, ho ripostato di nuovo la storia dicendo che effettivamente io non sapevo niente sugli insetti e in effetti i ragni non sono neanche insetti. Questo ha dimostrato un po', cioè la prima figuraccia appunto con Willy è stata questa e mi sono presentata bene, devo dire. Però per tutti coloro che come me non sono stati troppo attenti a scuola durante le lezioni di biologia, scienze, eccetera, eccetera, c'è il progetto ZoSparkle, che è il progetto di cui Willy è fondatore, che è un progetto social, si può trovare su Instagram, YouTube, TikTok, Twitch. Si concentra su zoologia, sull'evoluzione e sulla paleontologia. E quindi la nostra prima domanda è com'è che hai deciso di diventare un divulgatore social? Ma allora, in realtà... Allora, io l'amore per gli animali ce l'ho sempre avuto. Se devo un po' intracciare un fattore scatenante, come dico sempre, probabilmente è Jurassic Park. Io sono del 91, Jurassic Park è uscito, il film, nel 93, quindi quando l'ho visto ero molto piccolo e è stata una folgorazione proprio sulla via di Damasco per me perché era veramente... mi ha aperto un mondo, nonostante comunque già mi piacessero gli animali da sempre, però quello probabilmente è il fattore scatenante. E quindi da lì io ho sempre detto che volevo fare il paleontologo. Non ho abbastanza avuto dubbi sul mio futuro, nel senso che quando sono arrivato a fare l'università, la scelta per me, diciamo che secondo me era più adatta per quello che volevo fare io, era scienze naturali. Non ho avuto la crisi di, oddio, cosa faccio all'università? Io sono andato proprio dritto, tranquillo, eccetera. Il problema è che poi quando ho iniziato ad andarci all'università, il problema è stato quello. Ho detto che non l'ho presa benissimo perché comunque io era tutta la vita e mi dicevano ah, finalmente all'università farai quello che vuoi fino a quando ero alle medie. E poi quando sono arrivato all'università ho visto che non facevo quello che volevo, ma manco per idea. Scienze naturali è un corso che per forza di cose è vastissimo. A me interessava più che altro gli animali, sia vivi sia morti. In realtà c'era un sacco di roba in più che poi per carità ha senso anche che ci sia, eh, badate bene, però la botanica, la climatologia, la geologia, insomma, quindi un sacco di roba che comunque sia non... mi interessava non al pari degli animali. Quindi poi a una certa io sono arrivato a un punto che stavo quasi per mollare all'università e per darmi uno stimolo per continuare a, come dire, trovare un pretesto senza sentirmi in colpa perché toglievo spazio allo studio, eccetera, e nel contempo ho potuto continuare a coltivare un po', diciamo, quelli che erano i miei interessi. Ho aperto il canale YouTube, era il 2013, tipo, quindi erano proprio i primordi di questa roba su YouTube perché ora su YouTube c'è tanta gente a parlare di scienza. Quando io ho iniziato non era così assolutamente e non c'erano neanche le prospettive per cui uno potesse pensare lo faccio di lavoro. E poi, vabbè, mi sono laureato all'università con un discreto ritardo, però finalmente ce l'ho fatta e ho fatto la tesi, tra l'altro, sui dinosauri, quindi comunque sono rimasto fedele alla mia... Al sogno di bambino. Alla mia passione. Sì, non sono diventato effettivamente un paleontologo perché non mi occupo di ricerca attivamente in ambito paleo, però ho fatto la... Sono laureato in scienze naturali, ho fatto la tesi su quella che mi interessava e comunque faccio di professione di divulgatore scientifico che parla di questi temi, quindi comunque sono rimasto fedele alla passione. E ho fatto bene perché comunque, nonostante al tempo non ci fossero assolutamente le prospettive, io lo facevo proprio avanzatempo, cioè lo facevo per me. Non avevo cognizione di causa di faccio un progetto che in futuro mi porterà zero o meno. Però ho continuato, negli anni effettivamente mi ha portato bene, ogni tanto arrivava qualche soddisfazione che mi toglievo e poi sono arrivato a un certo punto e ho detto vabbè proviamo, nel senso dai forse è il caso di ufficializzare la faccenda. Io ho aperto partita IVA a ottobre del 2020, proprio la grandissimo periodo in cui fare un lancio del genere. Facilissimo, però fortunatamente, quindi in realtà prima di laurearmi, perché poi mi sono laureato aprile 2021, quindi già prima lavoravo come libero professionista e fa molto ridere pensare che sono titolare di un'azienda io, di una persona, però fa riderissimo sta cosa. E quindi niente, diciamo è così, me la sono sempre portata dietro e col tempo le persone hanno capito che i social erano una cosa che assolutamente non era nata col pretesto di parlare di scienza, è stata poi utilizzata anche per quello, con un discreto successo, ovviamente le piattaforme sono diverse tra di loro chiaramente, quindi dipende anche da quello, però di base è una cosa che ha preso molto piede e che oggi insomma funziona, quindi comunque insomma, non che sia facile, nel senso emergere comunque, insomma io parlo da tra virgolette sopravvissuto, nel senso che se dovessi partire adesso da zero, non so se me la collerei, come chiamola così, non so se ho risposto alla domanda, però. Assolutamente sì. E tra l'altro volevo collegarmi proprio a quello che stavi dicendo alla fine e volevo sapere proprio secondo te cos'è che alla fine ha fatto comunque avere questo successo alla scienza sui social network, perché di primo acchito non sembra un, cioè non sembra l'ambiente giusto per una comunicazione un po' più lenta, un po' più densa di contenuti e invece ho visto che recentemente anche TikTok comunque ha avuto una, io non lo seguo TikTok, quindi sono informazioni che mi sono arrivate di seconda mano, ma ha avuto un'impennata nei contenuti scientifici che era un po' inaspettata visto che era partito più per la danza che per altri generi di intrattenimento. Beh, banalmente c'entra anche la moda, secondo me. Adesso è un periodo che perlomeno su certe piattaforme, in certi modi, eccetera, va di moda parlare di cose scientifiche, il che genera anche dei problemi perché oggettivamente, insomma, ci sono anche contenuti di discutibile qualità, questo ovviamente non sta a me fare un rant sul livello di divulgazione sulle varie piattaforme, perché poi è una cosa stupida anche da fare fino a se stessa, però va detto che ovviamente essendoci tanta offerta, come è normale che sia quando ovviamente c'è tante persone che fanno una cosa, capita. Per ora quella comunicazione che dicevi te, Emilio, secondo me, c'è più che altro parlando di social su YouTube. Ok. Cioè su YouTube, YouTube premia i contenuti lenti, tra virgolette, mentre invece TikTok è un contenuto, diciamo, sì, può essere interessante, c'è chi lo fa bene, però è più un contenuto un po' useggetta, cioè del tipo, per come è fatto TikTok, per come, insomma, per quello che mi sembra di vedere, non è una piattaforma che permette di farsi una community. Ok. Per me adesso, per farsi una community, per la mia esperienza, adesso, le migliori sono probabilmente Twitch e Instagram, per farsi una community. anche YouTube, forse un pochino, ma YouTube in realtà era, per le community era in passato il top, adesso, adesso sinceramente lo vedo un po' meno. È interessante, però, secondo me, il fatto che comunque sia, non è che le persone erano più sceme, adesso sono più intelligenti, quindi cercano di più la scienza. Secondo me, banalmente, non la cercavano perché non sapevano che ci potesse essere. Ok. Quello che è cambiato, secondo me, è che diverse persone, e in questo, secondo me, quelli che hanno fatto più da apripista nella prima fase sono stati Bressanini e Adrian, e nella seconda Barbascura, hanno fatto vedere che c'erano anche questi contenuti e potevano essere posti in modo figo, in modo simpatico, in modo accurato, eccetera, e quindi le persone hanno poi cominciato a cercarli perché hanno capito e ho detto ah, ma lo sai che c'è anche questa roba su YouTube? Non lo sapevo, cerchiamo, e scoprono i canali, vedono tutte queste robe, perché comunque sia, parlo per esperienza di quello che mi dicono a me, nel mio caso, la persona per gli animali, insomma, sia estinti sia non, ce l'hanno tante persone da bambine, no? E poi magari la releghi a una roba da bambini, crescendo, non ti frega neanche più di tanto, ma no perché non ti piace più, perché boh, te la fanno passare, questo purtroppo è un peccato, come una roba da bambini, poi però, cioè, scopri che anche da grande puoi avere questa passione a livello, in realtà, da grande, perché appunto non c'è solo l'appassionato di dinosaurio a livello bambino, c'è anche l'appassionato di dinosaurio a livello grande, se no non esisterebbero i paleontologi, cioè, no nel senso, e le paleontologhe, quindi tendenzialmente è anche quello, cioè è bello che la gente abbia riscoperto poi che una roba che loro ne avevano fatto forse vivere come una roba più da bambini, può essere in realtà anche coltivata anche a livello grande. Non ti so dire di preciso per tornare alla domanda, poi io divago, apro parentesi, scusate, voi... Però per l'ospite di un podcast è favoloso, noi non dobbiamo fare niente, siamo qui in silenzio. Ma io, figurati, parlo quanto vuoi, però vi do il permesso da zopparmi se è una certa, interrompetemi, insomma. No, mi collego a una cosa che dicevi prima quando parlavi comunque di TikTok, di YouTube e di quanto appunto adesso sia diffusa, no? E quindi per forza di cose ci sono magari anche contenuti che abbassano un po' la qualità rispetto ad altri. Noi su questo podcast facciamo spesso segmenti di approfondimento su Dungeons & Dragons e altri giochi di ruolo ed è sempre difficile essere sicuri di aver ottenuto le informazioni giuste, no? Fare il fact-checking e insomma, cioè, a volte a me capita di riascoltare le puntate e dire boh, speriamo di aver detto tutto correttamente. Quindi immagino che parlare di scienza sia ancora più complicato. Tu, come gestisci la cosa? Come fai a fare ricerca per un contenuto divulgativo e ad essere sicuro di aver usato le fonti certe? Allora, la sicurezza al 100% è una rara chimera nel senso una cosa che secondo me bisogna accettare è che tutti sbagliano e non c'è nulla da fare. Cioè, tutti sbagliamo. Anche la persona che non ha mai sbagliato in vita sua parlando di una certa roba prima o poi sbaglierà. se è così io di minchiate ne ho sparate talmente tante ma banalmente ma anche in buona sì ma capita cioè l'importante è dire guardate questo è il mio errore scusatemi ho fatto questo errore qui scusate. Cioè io una volta ho detto che solo le zecche femmine succhiano il sangue è una bestialità di proporzioni ciclopiche. Vabbè io ho detto che i ragni sono insetti quindi Però te non hai preso il Trentellode a Zoologia 2 dove hai studiato gli artropodi è quello il punto è quello capito è un discrimine Certo, certo Capita ragazzi c'è un po' d'affari probabilmente sto lapsus mi confusi con le zanzare ma non lo so cioè a volte capita probabilmente hai trovato magari lo studio più incredibile che ti dice tutto quello è e poi scopri che per qualche motivo ricercando non ti ha spuntato fuori uno studio che smentiva quello appena detto che è stato pubblicato tre anni dopo te non l'hai visto eh razzi è così cioè succede oppure banalmente perché non hai capito molto bene un discorso cioè purtroppo è così certo quello che si può fare è cercare di ridurre sempre meno la possibilità di sbagliare non sarà mai zero però forti diciamo degli errori che si fa e cercando di fare sempre le cose più accurate possibili facendo appunto tutti i studi più approfonditi è si elimina un pochino di probabilità di sbagliare non sarà mai zero ripeto ma si cerca di migliorare anche in questo senso e io mi affronto questo discorso a volte male perché molto spesso per come funzionano i social non vengono non viene premiato il tempo nel senso la gente sui social vuole tutto subito e spesso e volentieri sei in qualche modo anche sottoposto a delle pressioni a delle scadenze eccetera che non ti permettono di dedicare magari troppo tempo o comunque il tempo che meriterebbe a un qualcosa perché un conto è se fa contenuti boh così ogni tanto perché vabbè fine nel senso perché mi diverto io lo devo fare per lavoro e la mia principale fonte di reddito in questo momento sono i video su youtube poi c'è tutto il resto ovviamente che mi aiuta però il principale guadagno viene da lì e se io salto una settimana perché perché dico non sono sicuro di questa informazione mi prendo ancora una settimana per documentarmi eh boh cioè sarebbe forse meglio farlo sì però ti mangi una settimana di guadagno eh sì secondo me si ritorna anche un pochino a quello che dicevi sulla community e il vantaggio di riuscire a costruire una community perché è un po' quella cosa che anche se hai un errore magari interviene qualcuno che ne sa più di te sull'argomento assolutamente visto per esempio un archeologo che ho iniziato a seguire da poco americano che ha fatto un video sulle batterie di Baghdad che vabbè è questo argomento ultra specifico e gli ha risposto un professore universitario la cui specializzazione era quello è una cosa che da un divulgatore che vedi in televisione o quando segui la lezione magari non è così facile riuscire ad ottenere cioè è comunque sempre un uno scambio di informazioni in qualche modo no no è vero anche perché io comunque cioè io diciamo parlo tra virgolette di un po' di tutto nel senso che a me piacciono gli animali quindi parlo dei dinosauri parlo dei ragni parlo degli squali cioè quindi non sono mai specializzato davvero in nulla di quello che parlo e so per certo che comunque mi seguono entomologi mi seguono paleontologi che studiano i dinosauri alcuni li conosco di persona o sono miei amici gente che studi cetacei gente che studia gli ornitologi magari quindi cioè magari se un ornitologo che mi segue guarda un video sugli insetti dove io ho fatto un errore non lo nota ma va tranquillo e se faccio un errore sugli uccelli lo nota subito quindi è anche una bella responsabilità perché io so per certo che nella community ci sono diverse persone che possono farmi le pulci in senso buono cioè della serie e vagliare la validità di quello che dico in questo ovviamente non voglio dire che non curo la forma perché come dicevo prima il video deve uscire in tutti i modi eccetera quindi chi se ne frega di quello che ho detto no ovviamente cerco di evitare piuttosto monto la sera e ci lavoro la sera però cosa che non è proprio sana però ultimamente infatti sto cercando di darmi una calmata anche sotto il popolo però di base bisogna prenderla sul serio perché comunque te il tuo contenuto lo metti su internet e internet è pieno di tutto sia della persona che ti apprezza a prescindere da quello che fai e che ha il paraocchi tra virgolette in senso positivo nei tuoi confronti sia dalla persona che non aspetta altro a informarti sia dalla persona che ti segue e che è perfettamente in grado educatamente di farti notare quello che hai sbagliato e a quel punto che fai e dici ragazzi scusate mi hanno corretto questo è l'errore fine il problema è che a volte per quanto il contenuto su internet muoia abbastanza presto spesso e volentieri è difficile per certe cose tipo se io sbaglio una storia chi se ne frega se sbaglio un video su youtube è un po' diverso ecco capito quindi bisogna stare attenti bisogna prenderla molto sul serio e non dare nulla per scontato poi chiaro io c'ho anche il problema che faccio in realtà mi trovo anche bene a far così però io faccio tutto da solo non è che ho un team di esperti che mi valuta lo script e mi fa la correzione A quindi è chiaro se avessi ogni video sui dinosauri che faccio avessi tre paleontologi o paleontologhe che me lo guardano prima di fare le riprese sarebbe un po' più difficile sbagliare però cerco di sbagliare il minimo cercando di insomma di fare il meglio se qualche cosa sono in dubbio o non ho trovato altre cose riporto anche questa cosa qua allora io ho una domanda un po' scomoda perché tu parlavi che hai avuto comunque un rapporto un po' turbolento con l'università e l'ho avuto anch'io e ho notato tra l'altro nella mia esperienza che comunque l'università in generale ha un rapporto turbolento con tutto il mondo dei social network poi magari è un dato puntuale il mio però appunto volevo chiederti secondo te è vero questa cosa cioè che l'università sta un po' perdendo il treno dei social e della divulgazione sui social o è soltanto una mia impressione allora anzitutto quello che ho visto è che molte persone non dico tutte ovviamente però molte persone hanno un rapporto un po' ambivalente diciamo con l'università boh se capitano ogni tanto vabbè ci sta se capita proprio a tutti mi viene a pensare tipo che non ci sia qualcosa da investigare meglio però boh vabbè vediamo un attimo per quanto riguarda il discorso dei social secondo me era un po' più vero gli anni passati cioè gli anni passati c'erano le università in generale gli atenei le istituzioni scientifiche e non erano molto restie ad abbassarsi a livello dei social perché dal loro punto di vista di questo si parlava cioè gli sembrava quasi di fare di ridicolizzarsi in qualche modo di abbassare a un livello non degno diciamo della loro caratura quello che rappresentavano ecco in realtà ho visto ultimamente un po' è migliorata la cosa io non ho avuto tantissime collaborazioni con università eccetera però diverse ne ho avute in realtà non tantissime ma posso dire che le mie esperienze le ho avute tolte ovviamente magari quelle all'interno dell'università organizzate da associazioni studentesche lì è più facile perché ovviamente sono giovani che autonomamente chiedono il permesso all'ateneo di fare determinate cose chiamare ospiti quindi tolgo queste ovviamente dall'equazione però sono stato contattato anche da diverse università o comunque professori universitari per corsi eccetera per collaborare proprio all'interno dell'università nel senso c'è stato un evento molto bello fatto dal sistema musale di Ateneo Bolognese che ha coinvolto diversi diversi creator tra cui me diciamo che comunque sto vedendo che ci stanno provando poi magari come gestiscono determinate cose a livello di social magari non tutti sono bravi allo stesso modo però di base quello che sto guardando è che diverse università e anche diversi docenti stanno incominciando a vedere un po' più diciamo con l'occhio dritto questa cosa qua dei social secondo me è migliorata nel tempo per quella che è la mia esperienza personale quindi qualcuno potrebbe smentire ma penso che chi fa il mio lavoro sia abbastanza allineato a quello che sto dicendo secondo me è migliorata meno male perché hanno una grossa riserva di conoscenze che sarebbe interessante anche rendere più fruibile verso l'esterno eh sì passando a tutt'altro argomento così iniziamo a muoverci verso il secondo segmento del podcast sappiamo che sei anche un giocatore di ruolo e io e te abbiamo giocato insieme sul canale di Filippo sul canale Twitch Dice and Dinosaur e volevamo chiederti quindi come hai iniziato a giocare di ruolo qual è la tua esperienza con i giochi di ruolo allora io in realtà la mia esperienza ahimè è abbastanza recente cioè io non sono giocatore navigato che da quando aveva dieci anni no zero cioè io avrò iniziato a giocare boh quattro anni fa forse vabbè siamo io e te allora non lo so è una roba nata per caso è un mondo che mi ha sempre un po' appassionato perché comunque sia essendo tantissimo amante dei mostri di tutte le salse vedevo che mi ricordo quando c'era ancora mi ricordo Seppat Find era 3.5 al tempo insomma c'era questo libro dei mostri quello con l'occhio davanti io andavo c'era una libreria e ce l'aveva a Prato andavo lì a guardarmelo vedo tutti questi mostri era proprio una goduria incredibile però poi in realtà mai fatto niente fino appunto a pochi anni fa quando feci una prova con un gruppetto di miei amici dove praticamente iniziamo con Pathfinder credo ho fatto una sessione di Pathfinder e poi sono passata la quinta perché insomma mi è passato subito la voglia e con la quinta mi sono trovato molto meglio poi con un po' di tra virgolette esperienza ripeto perché esperienza ne ho fatta veramente poca però con quel pochino di esperienza in più ho anche capito che non sono un giocatore da Pathfinder mi piace altro diciamo poi da lì è capitato di giocare l'area in qua in là specialmente D&D appunto quinta edizione non ne ho provati tantissimi giochi di ruolo ho provato appunto Call of Tulu poi ho provato Farsight che magari poi lo ritiriamo fuori perché lì ci ho anche collaborato per una roba poi altre cose che ho provato ho provato Kids on Bikes sempre da Filippo in generale questi poi mi è capitato di ritrovarmi a caso in sessioni di altra gente dove mi sono ritrovato a fare l'MPC perché io quella sera ero lì per caso per farlo un bacio vabbè vabbè verrò anch'io facevo tipo faccio l'albero non c'è problema ti faccio l'albero qualcosa si riesce a ruolare sì sì una volta mi sono ritrovato a fare tra l'altro in una sessione di 3.5 dove la gente era tipo c'era un chiarico che toglia 300 danni a turno ma lasciamo perdere queste cose proprio c'è l'unica aria e mi sono ritrovato a fare praticamente un uomo lucertola che doveva dare delle indicazioni a quelli che passavano di lì e si lamentava con l'altro uomo lucertola che era il master di aver inventato la lenza e che nessuno aveva capito l'importanza di questa grande invenzione la loro era piuttosto questa sì e tra l'altro il mio primo personaggio che spero un giorno di poter giocare degnamente tanto è che volevo provare a fare qualche esperienza questo inverno da master perché mi sa che nel gruppetto di amici miei mi sa che poi me la collo io quindi farò schifo come se non avessi già abbastanza cose da fare eh vabbè ma si fa qualcosa di leggero perché comunque insomma è la mia primissima esperienza allora da master storico occhio perché dicono sempre che sì vabbè lo fai adesso come esperienza e tutto e poi non smetti più di fare il dungeon master quindi attento a cosa concedi perfetto e quindi questo diciamo la mia esperienza di giochi di ruolo è abbastanza forse più dietro le quinte che da giocatore perché per discorsi dietro le quinte ho collaborato appunto in qualche modo con diverse con diverse realtà giocare ho giocato poco o perlomeno non quanto avrei voluto e sono molto appassionato in realtà di questo tipo di cose ecco ci sono un sacco di cose che vorrei provare e boh lo so lo trovo appagante però penso di non aver mai effettivamente sfruttato davvero la cosa quanto avrei voluto sì per esempio il mio personaggio è appunto il primo che ho fatto il mio personaggio di dnd il mio personaggio che adoro ma non l'ho mai cioè per forza di cose perché poi con quel gruppo poi si smise subito di giocare per vari motivi e poi appunto quando ci giocherò come amici mi toccherà fare il master quindi non lo giocherò di nuovo e lo farò spuntare come NPC per me se c'è verso per cui sì mi ci hanno proprio impegnato a fare sta roba quindi questa cosa ecco una cosa che ho qui col nodo in gola perché vorrei tanto farla ma non ci ho non ci ho avuto ancora occasione però sì mi piacciono mi piace ovviamente il discorso della personalizzazione del personaggio della storia del banalmente anche dei mostri di tutte quante le bestiacce che ci puoi mettere contro ai giocatori insomma questa è una cosa che trovo interessante ecco sinceramente non ci ho mai giocato perché tra l'altro non avevo nessuno che conoscevo che ci giocava quando ero piccolo non escludo che se ce l'avessi avuto probabilmente avrei iniziato molto prima sì è una cosa molto che si diffonde molto per passaparola quindi devi avere un po' la fortuna di capitare in una di quelle bolle adesso fortunatamente è un po' più estesa eh vabbè ora dai ora è diventato mainstream cosa che secondo me è più che positiva la gente ci sono degli appassionati magari sono appassionati di una roba appena diventa mainstream no ma che schifo eccetera dovresti essere contento noi siamo felici che diventino mainstream queste cose ma infatti va bene hai detto che una delle cose che ti affascina nel gioco di ruolo sono mostri e bestiacce ed è proprio di mostri e bestiacce che parleremo nel secondo segmento ma prima un attimo per lo sponsor è un attimo è un attimo sappiamo che recentemente hai pubblicato un libro quindi volevamo approfittare di questo spazio pubblicitario che di solito lasciamo al nostro ospite per sponsorizzare un po' di sue cose per parlarci del tuo libro che tra l'altro è un titolo fighissimo esatto esatto è un titolo particolare che è il coccodrillo al cuore tenero è un saggio sulle cure parentali quindi tutti i metodi che gli animali hanno per curare diciamo la propria prole, nutrirla, proteggerla eccetera è editato da Rizzoli e perché il coccodrillo al cuore tenero? perché è uno degli animali insomma che notoriamente non sono associati alla parola tenero sono anzi reputati dagli animali molto pericolosi però quella che è la trappola mortale per molti animali cioè le fauci del coccodrillo sono in realtà il posto probabilmente più sicuro del mondo per i coccodrillini che la madre quando poi le uova si schiudono li va a prendere diligentemente li prende in bocca e li va poi a scaricare nella pozzetta d'acqua dove loro sguazzeranno e inizieranno la loro vita quindi è figo perché comunque mi piaceva questo contrasto ecco tra la parola coccodrillo e la parola tenero parla di cure parentali a tutto tondo insomma parlo dell'evoluzione del latte nei mammiferi che per noi è fondamentale ci sono animali di tutti i tipi, ci sono gli insetti, ci sono gli araclidi ci sono delle mamme estreme che si fanno letteralmente mangiare dai propri figli ci sono i parassiti di cova tipo il cuculo che di allevare i figli non ne fega niente lo fa fare ad altri si stanno curando diciamo di un uccellino che non è il loro senza saperlo ci sono animali che vivono in famiglia dove ci sono le nonne come per esempio le orche, ci sono appunto genitori omosessuali che sono bravi quanto quelli etero quindi è veramente molto vasto, è un argomento vastissimo che mi ha permesso di parlare di un sacco di curiosità che può essere usato a me per testo per parlare poi di tante delle cose che sono fondamentali per lo studio dell'evoluzione della cosa quindi insomma sì, tanto ci sono anche delle illustrazioni molto carine che ha fatto Claudia Plescia che è bravissima illustratrice fumettista quindi anche per quello appunto merita e quindi niente, se lo vorrete poi recuperare e capiterà un'occasione in cui io faccio un firmacopio a un evento o a qualche parte e me lo portate, vi faccio la dedica tranquillamente quindi spero insomma l'apprezzate ma per il resto appunto io mi trovate come Zosparkle su tutto cioè mi chiamo Zosparkle quindi non c'è verso di sbagliare e per il libro c'è un canale privilegiato dove possono acquistarlo lo trovano ovunque ci siano libri? ovunque ci siano libri, sia online sia in negozi fisici lo trovate dovunque molto interessante e come sentirete tra poco nel secondo segmento è utile anche oltre per imparare una grossa fetta di evoluzione e biologia, zoologia animale anche per avere meravigliosi spunti su come creare mostri e avventure in Dungeons & Dragons quando abbiamo un ospite con un particolare background scientifico è sempre divertente approfittarne per avere degli spunti di world building in più no, tu hai fatto una serie dove creavi pokemon da animali interessanti o particolari e quindi volevo chiederti se dovessi creare un mostro per Dungeons & Dragons a quale animale ti ispireresti e perché? oppure se lo hai creato, visto che ci hai detto che dietro le quinte hai collaborato con un po' di cose sì, qualcosina ho fatto allora io ho sempre stato infognato fin da piccolo con scarabocchiare mostri, disegnare, inventare mostroni eccetera disegno è un mio grande passatempo, non l'ho mai coltivato a livello insomma di studio eccetera sono arrivato vicinissimo a mollare l'università per iscrivermi a un corso di illustrazione poi in realtà, quindi nel multiverso c'è un wheelie che ha preso un'altra strada, no? come sappiamo quindi però in realtà, vabbè, visto il lavoro che faccio meglio sia andata così però vabbè, questo è un altro discorso e si fa col seno di poi sì, allora, una cosa che mi è sempre piaciuta è proprio quello di inventare mostri farci delle storie, immaginarmi che versi facevano, come si muovevano, no? infatti uno dei miei grandi sogni sarebbe anche fare una serie di mostriciattoli tipo gormiti collezionabili, perché io ho tra le varie cose che mi caratterizzano c'è anche questa cosa che sono un collezionista maledetto di mostriciattoli di plastica e robe simili e quindi, insomma, è interessante questa cosa che comunque vedo che c'è tanta voglia o comunque nel tempo c'è stata tanta voglia di fare mostri è proprio una cosa che secondo me ci viene naturale, è una certa, se si è appassionati di immaginarsi cose, personalizzare il mostro, del tipo sì, mi piace quel dragolì, però secondo me ci starebbe meglio con il corno fatto così di olleali di questo volore quindi secondo me è bello e poi c'è un'altra cosa che io colleziono questa roba probabilmente perché c'è un legame al discorso degli animali perché anche gli animali sono tantissimi da studiare quindi quando impari qualcosa su qualcuno di nuovo è come spuntare, diciamo, nell'album di figurine ok, questo l'ho studiato, non è una roba del genere però è un Pokédex i Pokémon d'altronde giocano proprio su questa cosa qua cioè sul collezionismo, no? e non lo so, in parte probabilmente questi animalacci di plastica che collezionavo che avevano spesso sembianze di dinosauri, di insetti mi sembrava quasi comunque di avere un mio piccolo zoo un mio piccolo, no? una piccola collezione di insetti nelle teche da esporre, eccetera per, insomma, però di mostri appunto quindi era una cosa ancora più fantasiosa e allora mi chiedi da che animale mi ispirerei? banalmente da uno che le persone non si aspettano nel senso ci sono molti animali che vengono snobbati ma che in realtà sono molto pericolosi cioè quando si parla di animali pericolosi si pensa subito ai predatori e certo alcuni di loro lo sono per carità però se un leone ha già mangiato poi starà a fare una pennichella sotto un albero per tutto il resto del giorno probabilmente prova a avvicinarti a un ippopotamo che è in acqua poi me lo racconti se ne esci vivo perché comunque c'è molta questa dicotomia tra gli erbivori buoni e i carnivori cattivi in parte ovviamente il buono cattivo è un concetto puramente umano non si applica alla natura benissimo però cioè non c'è alcun legame tra il tipo di dieta e l'aggressività la territorialità no? di certi animali gli ipotami sono un esempio ma per esempio anche sempre stando in Africa non lo so buffalica afri ci sono degli animali erbivori che apparentemente sono dei pasciocconi che invece sono delle bestie incredibili o per esempio pensate ai sauropodi che sono appunto i dinosauri che li ho il collo lungo tipo piedino tutti pensano a piedino abellino piedino tenero cose ragazzi ma erano animali che pesavano decine di tonnellate in alcuni casi cioè una delle specie più grosse erano lunghe probabilmente più di 30 metri cioè una roba lunga 30 metri che pesa 40 o 50 tonnellate ma chi la smuove? ti sfiora per errore se ti sfiora per errore ti polverizza ti polverizza cioè nel senso ma poi erano delle fortezze viventi virtualmente inattaccabili quando diventavano adulti il problema era diventarci ma quello è un altro discorso cioè quando sei un sauropode gigantesco adulto di 50 tonnellate ma chi è che si accolla di dire ma oggi mangio quello cioè no nel senso non si fa cioè è da pazzi una roba del genere se io fossi stato un allosauro mi trovassi davanti un brachiosauro o un apatosauro adulti dico vabbè va divento vegetariano andiamo a cercarne uno piscino insomma è la stessa cosa cioè e così in generale fanno i predatori vanno ovviamente a catturare gli esemplari che sono malati o che sono più deboli o che sono più giovani perché sono più piccoli quindi meno più deboli inesperti fanno sempre queste raffigurazioni anche parlando di dinosauri del tirannosauro adulto feroce più grosso contro il più grosso triceratopo adulto e si scontrano tipo Godzilla contro Anguirus e il genere è una roba assurda che è bellissima evocativissima come immagine ma in realtà è molto diciamo un po' poco verosimile se guardiamo come si si diciamo comportano i predatori in natura quindi la mia idea per fare un mostro originale è andare a cercare qualcosa che magari non si aspettano i giocatori ecco perché se vedono una tigra a due teste con i denti a sciabole le ali a pepistrello e sei zampe artigliate dico vabbè dai forse ci sarà il caso di tirare iniziativa non lo so vediamo nel senso se vedono magari non lo so chi ci posso dire una mucca gigantesca dici vabbè dai carina ci si passa accanto poi scoprono che c'ha la corazza la coda ammazza otto corni li carica perché se passate accanto c'è valbitellino nel senso e quindi fine sarebbe l'incubo di Ivec che è un personaggio di una nostra campagna lui praticamente esercitava l'incantesimo esilio che è quello che appunto esilia una creatura per un tozzo di tempo lui per esercitarsi lo faceva sulle mucche effettivamente però siccome era sfigato con i dadi non riusciva mai ad esiliarle e quindi c'è questa storyline di questo personaggio che tenta di esiliare le mucche a caso perciò immagino che quindi io avrei potuto vendicare le mucche caricandolo effettivamente adesso faremo una one shot con delle mucche di questo tipo magari se lui non sa dove è l'esilia potrebbe esiliare in un'altra dimensione una mucca dove si carica di un'energia mutagenica devastante quando torna è tipo enorme incazzatissima super armata comunque un'altra fonte di ispirazione clamorosa secondo me ovviamente è la preistoria non solo gli animali di oggi che al di là di quelle poche carismatiche specie che conoscano tutti c'è una quantità di roba assurda che merita ad essere approfondita assolutamente però tipo anche a livello di fauna preistorica c'è veramente della roba eccezionale che può essere tranquillamente può tranquillamente funzionare come mostro in D&D o in qualsiasi altro gioco banalmente presa e traslata lì quasi senza alcuna modifica quindi la mia idea è di cercare un po' di animali particolari non perché bisogna sempre per forza fare il mostro più strano o più particolare o più originale si può fare anche la roba che banalmente ci piace però diciamo che quello che vedo nei mostro è che spesso sono ripetitivi ci sono sempre quelle solite 5-6 tipologie di animali messe in vari modi con colori diversi dimensioni diversi poteri diversi ma quelli sono ed è un peccato perché c'è veramente tanto secondo me che meriterebbe ad essere approfondito poi ben inteso io non è che vi sto qua a dire mi riferisco a chi ci segue come bisogna giocare per fare le cose bene attenzione cioè il modo giusto di giocare è quello che avete concordato al tavolo con gli altri quindi se a voi vi va bene di fare una storia super fantasy dove non si spiega niente perché va bene o sì dove c'è un idra furetto a sette teste che sputa lava e quando tagli una testa cresce un'altra idra furetto dalla testa mozzata va benissimo e poi dotato di favelle parla bergamasco non lo so quello che volete non è che dovete fare cioè non è questo che vi dico che è il modo giusto di giocare sto dicendo che diciamo per fare le cose più se ovviamente al tavolo le persone vogliono fare una roba che sia più interessante più coerente più realistica lo dico tra virgolette perché comunque ovviamente c'è un po' di sospensione nelle incredibilità ovviamente insomma mi fa piacere darvi due spunti quelli assolutamente insomma è una roba a cui tengo e quindi il primo consiglio che vi do è non limitatevi cioè prende studiatevi un po' di animali guardatevi soprattutto gli invertebrati perché in realtà cioè allora più del 90% degli animali sono insetti intanto poi ci sono tutti gli altri invertebrati poi ci siamo noi vertebrati siamo piccolini da una parte poi ci sono gli arachnidi gli arachnidi ovviamente che non sono tanti quanto gli insetti è chiaro però insomma è una roba secondo me da scoprire il mondo degli animali se uno inizia a studiarlo fa delle scoperte assurde veramente può amplificare una caratteristica di un animale a livelli tali da poterne puoi fare un potere di un mostro per esempio c'è il campanaro bianco che è l'uccello più rumoroso del mondo che i maschi praticamente fanno un richiamo talmente forte che le femmine non mi ricordo quanti decibel è più di 120 se non ricordo male e le femmine devono stare attenti a avvicinare perché col canto si capisce ovviamente quanto il maschio è sano è forte quindi quanto è un buon partner quindi ovviamente è un meccanismo che le femmine utilizzano per la scelta del partner però devono stare attenti ad avvicinarsi troppo perché se no si danneggiano un dito è bellissimo è assurda sta cosa quindi immaginati un uccello che fa un riniamo tale che ti fa un'onda sonora e ti sfonda tutto se ti prendono quindi c'è basta prendere una roba del genere e estremizzarla normalmente un animale che schizza muco per catturare una preda come può essere non so gli onicofori che sono i cosiddetti vermi di velluto sono lenti benissimo sì e infatti come fanno a prendere le loro prede piccoli insetti hanno ai lati della bocca due ghiandole sputano muco che si solidifica presentemente a contatto con l'aria praticamente li incollano lì poi hai voglia a dire son lento sì ma tu non ti muovi vedrai questo è terrificante quando arrivo ti mangio questo è bellissimo per un incontro perché fai tutta un'altra dinamica lui che si muove lentissimo come un cubo gelatinoso ma ti blocca a distanza e pian piano uno alla volta assolutamente assolutamente oppure probabilmente le seppie che in teoria hanno le perché allora i polpi hanno le braccia non i tentacoli questo è un tecnicismo però vabbè nel parlato comune si chiamano anche tentacoli però tecnicamente si chiamano braccia le seppie calamari hanno otto braccia come i polpi più due tentacoli vengono tenuti nascosti e vengono ritratti vengono estroflessi diciamo per catturare la preda a distanza se voi guardate il video di una seppia che sputa fuori tra virgolette i tentacoli è una roba rapidissima non te l'aspetti e soprattutto che arriva a distanza è una persona che non sa che ci sono due tentacoli nascosti lì sotto probabilmente si avvicina tranquillamente e si becca un attacco di opportunità quando arriva a tiro senza saperlo o come quel gambero che è talmente colpisce che era talmente velocemente da creare un vuoto nell'acqua il pistol shrimp eh esatto cos'è la famiglia sono i sinalfeidi mi sembra sono la famiglia sono i cosiddetti gamberi pistoleri gamberi schioccatori che per cavitazione fa collassare le bolle con questa chela modificata ed è con quella che stende le prede cioè praticamente è un'arma a distanza sì sì è assurdo è roba incredibile ed è affascinante anche come approccio per tutto il mondo che ci costruisce attorno perché se se studi qualche come si è evoluta assolutamente una caratteristica del genere sai anche che caratteristiche deve avere un ambiente per sviluppare o sostenere un animale del genere con caratteristiche del genere quindi pian piano puoi costruire il mondo tutto attorno a quello invece che costruirlo semplicemente intorno a dove metto la città o dove è il monte Fato e così via sì ma infatti ha senso cioè banalmente secondo me dovremmo anche far percepire ai giocatori l'idea di essere parte diciamo di quel mondo cioè loro non sono semplicemente delle miniature che io metto lì e ti dico vai esplora guarda le cose oh appare un pericolo uccidilo cioè non è questo il punto devono sentirsi parte di quel mondo e sentirsi parte di quel mondo vuol dire avere diciamo un legame a volte anche inaspettato con quello che vedono tipo perché un animale dovrebbe attaccarli dico animale insensolato eh animale mostro bestia quello che volete perché un animale dovrebbe attaccarli cioè ci sarà un motivo e questo motivo qual è semplicemente perché hanno bisogno di fare punti e fare esperienze e passare a livello dopo boh se vi va bene può essere anche questo però se vi interessa un attimino più forse è il caso di mettergli la pulce nell'orecchio no perché quest'animale ti ha attaccato perché ha fame boh possibile ma perché non ha mangiato altre cose perché attacca me non c'è del cibo più adatto qualcuno coperto di armature con robe taglienti addosso capito oppure banalmente perché questo esemplare in particolare mi ha attaccato e un altro no che cos'ha questo esemplare diverso magari c'ha la tana lì con i cuccioli magari sei vestito in un modo che ricorda una caratteristica di un suo predatore o di una sua tipica preda banalmente nel cui si nutre di animali rossi e te sei vestito di rosso per dire cose sceme però possono dare uno spunto sì come i surfisti non so se è una cosa vera ma i surfisti che vengono scambiati per fochi quelle poche volte che vengono aggrediti sì sì esatto cose del genere secondo me sono molto interessanti oppure banalmente hai fatto un rumore che in qualche modo l'ha triggerato perché ricorda il rumore del non lo so del loro tipico predatore quindi hai innescato una risposta di difesa o banalmente un odore hai addosso un odore che in qualche modo fa sì che ci sia una risposta di un certo tipo oppure in realtà cose che se ti possono in realtà anche aiutare a evitarli questi scontri se lo sai nel senso se io passo di lì e so che c'è una roba magari è periodo possono scoprire i giocatori quello lì guarda questo periodo c'è quel tot bestia che nidifica quindi in quel periodo ci sono dei nidi ecco là passiamo da un'altra parte ti eviti uno scontro spiacevole o un rallentamento se devi magari arrivare in un posto poi dici al mago che l'uovo gli serve per lanciare qualche incantesimo così ci si infilano dentro loro nella trappola ah beh certo oppure banalmente posso sfruttare a mio vantaggio la cosa perché so che i miei nemici di lì non ci passano perché ci sono degli animali che li attaccherebbero per x motivi e a me per x motivi non mi attaccano bene passiamoci li battiamo sul tempo oppure che ti posso dire di altro sfruttare una cosa con i nostri nemici cioè se vado nel posto dove ci sono degli animali super territoriali che attaccano a vista i loro simili perché sono molto territoriali e io ho modo di prendere l'odore di uno di questi animali e metterlo con diciamo con l'inganno addosso a qualcun altro e poi sono problemi se posso anche portarlo lì l'animale si incazza c'è fuori lo lascio lì e me ne scappo e così mi sono risolto il problema quindi secondo me dovremmo cercare di usarli anche a nostro vantaggio il comportamento degli animali eccetera perché effettivamente può essere una cosa utile o banalmente devo entrare in un nido di formiche giganti come comunicano le formiche con l'odorato quello sarebbe terrorizzante tra l'altro eh ho capito però se ti ammazzi una formica esploratrice e ti si strusci sul cadavere finché non ne prendi tutti gli idrocarburi cuticolari che ti si attaccano addosso probabilmente se te entri nel formicaio pensa che tu sia una loro sorella è perché sai dello stesso identico odore di una loro sorella quindi non hanno motivo da attaccarti è così che ferrociano le formiche e questa roba è stata vista cioè le puoi fregare cioè del tipo se una loro sorella li togli con un solvente di qualche tipo di dosso gli idrocarburi cuticolari tipici della sua colonia che le formiche hanno gli insetti eusociali in realtà in generale hanno un cosiddetto olore gli menotteri insomma eusociali formiche vespe api hanno un loro odore di colonia con cui si riconoscono quindi se te sai di quell'odore vuol dire che sei di loro se te prendi due formiche sorelle che si sono tipo riconosciute fino a un secondo prima per chiamare lo stesso odore e a una gli togli con un solvente questo odore di colonia e la rimetti insieme cioè verrà attaccata perché è percepita come un nemico se invece prendi una formica non imparentata da una colonia distante 100 km e ci metti sopra l'odore della colonia lì e ce la butti dentro succede nulla tra l'altro sono tutte cose interessanti anche per fare specie giocabili cioè per fare assolutamente discendenze o razze per i giocatori fare qualcosa più simile a una formica che riconosce gli altri tramite l'odore sarebbe interessante da ruolare sì sì ma infatti ti ho detto il comportamento degli animali ti dà un sacco di spunti anche sotto questo punto di vista se ti va di fare qualche specie gioabile ombriu o qualche mostro ombriu cioè è figo è proprio figo altra cosa che puoi usare banalmente il discorso delle armi cioè se sai quali sono le caratteristiche di un animale magari sai anche che armi sono migliori per abbatterlo o per farlo uscire allo scoperto o per farlo scappare insomma un po' alla The Witcher esatto esatto un po' alla The Witcher sì banalmente mi viene in mente cosa assurda potrebbe essere che le api hanno questa forma di difesa in cui cuociono letteralmente i calabroni no? fanno la palla lo ricoprono letteralmente fanno vibrare i muscoli del torace e questo aumenta la temperatura all'interno della palla talmente tanto che di quei pochi gradi in più tali che il calabrone muore cotto diciamo a me è sempre quello che affascina poi che sono veramente sottili differenze evolutive che fanno la differenza in queste cose le api resistono con i pochi gradi in più che sono sufficienti per una strategia del genere mentre il calabrone no e quindi viene cotto sì sì l'evoluzione la potete usare l'evoluzione è vostra amica nel senso vi dice magari perché un animale sta in un posto perché ha quelle caratteristiche banalmente quando si pensa a un mondo bisognerebbe anche valutare dove mettere gli animali giusti banalmente ci posso mettere un orso polare nel deserto perché? perché non ci sta però anche se io devo mettere un mostro che non esiste che mi invento in un determinato posto bisogna che bisogna che ci pensi a queste cose perché chiaramente se io metto l'urso polare nel deserto va bene il fantasy va bene tutto però mi crolla un po' tutto quel fascino di verosimiglianza e sto guardando so benissimo che sto giocando a un gioco finto e che quello che sto vivendo tra virgolette in game non è una cosa reale però c'è comunque quel sottile grado di verosimiglianza che mi permette anche di immedesimarmi meglio nelle storie che sto vivendo e se io metto un orso polare nel deserto è che c'entra mi crolla tutto su questa cosa del deserto io stavo creando una campagna ambientata nel deserto e avevo visto alcuni dei miti e leggende più legati al mondo islamico proprio dell'età dell'oro dell'islam dove gli unicorni infatti non sono cavalli ma sono rinoceronti che hanno il corno dorato e hanno una forma completamente diversa perché sono più legati agli animali che vedevano più rari più strani nel mondo che avevano a disposizione eh sì probabilmente gli unicorni che ha visto Marco Polo erano rinoceronti sicuramente non erano unicorni poi sicuramente erano rinoceronti erano rinoceronti quindi sì tant'è che mi sembra rinoceronte indiano mi sembra siamo rinoceros unicornis il nome scientifico proprio perché ha un corno differenza dei rinoceronti africani che ne hanno due è particolare perché comunque anche il discorso culturale secondo me è da prendere in esame in un world building culturale diciamo legato agli animali perché noi non ci non abbiamo idea di quanto gli animali pesino nella nostra società nella vita di tutti i giorni non sto pensando banalmente agli animali da compagnia vero però sto pensando proprio alle cose proprio pratiche della nostra storia banalmente non lo so pensate ai piccioni viaggiatori cioè per un periodo è stata forse il metodo di comunicazione più rapido del mondo pensate ai cavalli o i cani i cani ovviamente i cani poi assurdo hanno aiutato la nostra specie a fare di tutto ci sono cani veramente per ogni utilizzo che si possa pensare a livello di razze avevo visto anche per esempio quanto sia stato fondamentale nello sviluppo della società europea il fatto di avere a disposizione grandi bovini facilmente addomesticabili quando invece cambia è stato uno dei fattori di divergenza con altre zone del mondo il fatto che non avessero disposizione animali del genere ma magari i suini più piccoli o le zebre che sono meno domesticabili e così via assolutamente pensa che in sud america non c'erano praticamente più grossi mammiferi hanno addomesticato quei pochi che potevano ma in realtà non avrebbero mai potuto fare quello che è stato fatto in altre zone col cavallo con l'antenato selvatico della vacca che oggi è estinto che è l'uro perché non c'erano questo ha influito sulla società ovviamente delle culture si sono evolute lì ma pensate che i primi scambi commerciali tra oriente e occidente sono stati fatti grazie ai bachi da sete cioè è la famosa via della seta è nata la seta chi la fa la seta la fanno tessuta intorno al bozzolo del baco da seta di bombice del gelso via che tra l'altro è l'unico insetto che abbiamo addomesticato sì esatto non volano praticamente neanche ed è interessante come vedere il fatto che sia gli animali sia i grandi mammiferi che abbiamo addomesticato i bovini che il baco da seta ha certe caratteristiche in comune diventano più larghi con più grasso sottocutaneo con più facilmente visibili e così via e sì perché poi basta pensare alle differenze ci sono tra i cani e il lupo che è il loro progenitore selvatico poi le cose addomesticate si modificano ma anche i cavalli selvatici che l'antenato selvatico del cavallo era il tarpan è estinto pure quello ma era molto diverso dal cavallo che conosciamo noi e questo ha un peso cioè come gli animali sono disponibili per la domesticazione dove ti trovi cambia tutto come vivi giornalmente la tua vita a livello storico ripeto il discorso della via della seta è emblematico perché c'è letteralmente è per via dei bruchi di una certa falena che si sono intrattenuti i primi commerci su lunga distanza tra occidente e oriente è letteralmente una cosa che ha cambiato la storia oppure pensate banalmente agli impollinatori in generale gli insetti impollinatori in realtà anche gli impollinatori non insetti che grazie ai quali ovviamente le piante a fiore si hanno modo di fare frutti tutto quello che volete e noi lo sfruttiamo a nostro vantaggio questa cosa chiaramente perché se ci nutriamo di frutti e di piante edibili lo dobbiamo anche agli insetti che le impollinano quindi bellissimo o che ne so pensate si torna ai cani i cani da guardia cioè avere i cani da guardia fa tutta la differenza nel mondo se di notte stai dormendo e c'è qualcuno intorno o qualcosa intorno che si muove o il gatto che ti tiene sotto controllo la proliferazione dei roditori che quindi ti permette di conservare meglio le derrate alimentari cioè è assurda ma è cosa noi non ce ne rendiamo conto ma di quanto gli animali hanno influito anche perché poi c'è l'altro lato cioè del tipo che non sempre la convivenza con gli animali è facile del tipo se te hai dei campi coltivati gli animali erbevori magari lo sfruttano nel nostro paese cioè è all'ordine del giorno campi coltivati che vengono devastati da cinghiali o sbocconcellati da cervi caprioli daini ghiotti di tutte quante le verdurine che noi coltiviamo questa cosa succede in afria con gli elefanti che è un attimino un po' più difficile da gestire rispetto ai cosi e anche lì cosa assurda uno pensa tipo che dice perché c'è anche questo fatto è ovvio che gli elefanti in alcuni paesi dell'Afria per esempio non in tutti in Kenya questa cosa non è quasi più un problema in altri paesi sì però per esempio banalmente c'è il bracconaggio e uno quindi può pensare no no gli elefanti vanno ovviamente salvaguardati bisogna tutti i riguardi ed è verissimo però ci sono dei posti dove gli elefanti vivono a contatto con la nostra specie e che le persone che vivono letteralmente di agricoltura avere un paio di elefanti che gli vanno nel campo vuol dire perdere un'annata di lavoro ed è una roba che non si può prendere sotto gamba quindi come fai cioè noi diciamo la classica noi sono cose diciamo dalla nostra classica poltrona cioè del tipo no no è giusto che sia così fine però non siamo noi che viviamo a contatto gli elefanti ci sono tanti progetti uno per esempio è di mettere delle pietre più o meno spigolose aguzzi attorno ai campi gli elefanti non ci vanno perché per loro è molto spiacevole alpestarle e funziona è una cosa di una stupidità incredibile però a pensarci però funziona altra cosa che funziona sono le api che gli elefanti le detestano io e gli elefanti abbiamo delle cose in comune se te metti delle arnie con le api hai delimitare la tua proprietà gli elefanti non ci vengono perché sono infastiditi dal ronzio non ci vengono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oppure alla mail lorenzobrachetti-outlook.it, tutto minuscolo, tutto attaccato, lorenzobrachetti-outlook.it. Da poco ha anche aperto una pagina su Instagram, Insta Insurer, su cui presto troverete contenuti divulgativi, visto che parliamo di divulgazione nell'episodio di oggi, ma nel campo delle assicurazioni. Quindi consigli e cose pratiche su come assicurarsi e come scegliere la modalità migliore. È un appassionato di gioco e di ruolo come noi, è veramente super appassionato. Quindi avete già un punto in comune se volete essere a vostro agio con la persona con cui poi dovrete assicurare la vostra casa, il vostro viaggio, la vostra auto o qualsiasi altra cosa di cui abbiate bisogno. Potete chiamarlo anche semplicemente per chiedere dei consigli e delle consulenze. Come sempre vi lasciamo tutti i link e le informazioni utili nella descrizione di questo episodio e adesso vi lasciamo di questa intervista. Abbiamo un'altra domanda che secondo me è molto difficile, però adesso vediamo cosa viene fuori. Ma super nerd, quindi va bene. Allora, nel fantasy moderno sta andando di moda prendere elementi tipici del fantasy, come ad esempio il sistema di magia, e calarli in un mondo realistico. Quindi, secondo te, come si evolverebbe la magia sotto la spinta della selezione naturale? Di cosa dovremmo tenere conto se volessimo fare una campagna con all'interno un elemento fantasy come la magia, ma realistica dal punto di vista dell'evoluzione? Allora, questa secondo me è una domanda pazzesca. Non so cosa sia la magia, nel senso non saprei definirla, e quindi questo lascio l'incomodo agli sfortunati e sfortunate master che dovranno maneggiare sta patata bollente. Però di base a me, per concezione mia, vedo la magia come una roba molto, perlomeno nello stadio, non dico quello che l'ha studiata, l'ha fatta sua, l'ha compresa. Proprio a livello esiste in natura? Bene, secondo me è un casino. C'è una roba difficile da prevedere, difficile da controllare. Pensare a un animale che c'ha a che fare, mi vedo degli esiti un po' particolari. Però secondo me può essere interessante una cosa. Noi abbiamo questa concezione della selezione naturale, che fa solo il bene per gli animali, cioè del tipo, se vengono selezionate dall'evoluzione solo le cose che funzionano e che aiutano a migliorare la vita di chi ha determinate caratteristiche. Perché sono caratteristiche che in quel contesto lì funzionano bene, fanno sì che chi ce l'ha sopravvive di più, eccetera. Beh, non è proprio vero, nel senso, a volte è vero, ma a volte no. Cioè non è vero che si fa solo il bene, a volte possono e come essere selezionate degli adattamenti che in realtà peggiorano la vita di chi li porta. Basta che li facciano riprodurre di più, è quello il punto. Per esempio, pensate al palco dei cervi, no? Il palco dei cervi è un investimento assurdo, perché loro tutti gli anni maschi lo devono rifare, solo i cervi di maschi a eccezione delle renne. Cioè è letteralmente un osso, un paio di ossi che ti cresce sul cranio, che ha un suo peso, che ti succhia calcio dalle ossa. E poi a fine stagione produttivo di nuovo ti casca e lo devi rifare da capo l'anno dopo, cioè è una roba assurda. Madonna, quante cose che sto scoprendo stasera. E vabbè, sì, io ero convinta fossero fisse, cioè una volta che ti crescono ti rimangono tipo quelle dei tifling, non lo so, cioè vabbè, scusate. Le corna, se uno fa un tifling cervo, ogni anno gli cascano e gli ricrescono i palchi. No, le corna sono fisse, quelle delle vacche, dei bufali sono fisse, crescono e poi restano lì. I palchi crescono e cadono, crescono e cadono, crescono e cadono. Ed è un investimento pazzesco e non è che necessariamente è un bene, perché è una roba che ha un suo costo a livello energetico. E se non sei abbastanza forte da sostenerlo, può darsi anche e ti crea dei problemi, no? Può essere un impiccio più che altro perché muoiono dei cervi incastrati nei rami, morti di sete e di fame, perché hanno incastrato il palco nei rami. Si fa fatica a credere che quello sia una roba fatta per il bene, no? C'è la sopravvivenza, no? Però che cosa ha di contro? È che le femmine apprezzano particolarmente i palchi grandi, perché vuol dire che sei un maschio in salute, che non hai parassiti, che sei un buon partner, perché quindi la sua qualità genetica è ottima. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che si possono e come selezionare delle cose che non sono necessariamente il bene per chi le porta. Mi chiedo in questo schema che ruolo possa avere la magia, del tipo, e se la magia in questo senso avesse un influsso sulla selezione sessuale, cioè sulle cose che piacciono, cioè del tipo che fa crescere sempre di più in modo spropositato degli ornamenti, delle cose, in modo incontrollato, inconcepibile, caotico, però le femmine piacciono. E quindi nonostante i maschi campano pochissimo, perché poi vengono ammazzati più facilmente dai predatori, perché hanno vesti corni assurdi, stroncati da tutte le parti, però le femmine per qualche motivo piacciono e quindi, nel senso, ugualmente questa cosa verrà selezionata. Ho banalmente animali che la usano per fare segnali luminosi, tipo le lucciole per intenderci, no? Che hanno la bioluminescenza, è un modo per comunicare quando sono adulte. Da larvae serve per spaventare i predatori e non farsi mangiare. Mi immagino appunto un animale che utilizza questa magia per fare dei segnali luminosi o per mandare dei fuochi d'artificio dalla bocca per attirare dei partner, e te vedi magari una foresta dove c'è dei fuochi d'artificio e partner e dici, ah che bello, c'è una festa, andiamo lì. E mentre invece è un'arena in cui uno spiazzo, sì, uno spiazzo della foresta dove ci sono questi uccelli e stanno vomitando fuochi d'artificio perché le femmine sono lì sugli alberi a guardare il maschio che li fa più colorati e poi scelgono, cioè... Questa scena è meravigliosa. Io queste robe te le ruvo tutte, se senti qualcosa del genere. Ah, voglia, sono del dominio pubblico dal momento che le dico. Quindi sì, cioè, mi immagino che secondo me se uno vuole includere la magia da un punto di vista evolutivo, per mia concezione la immagino molto caotica e molto legata alla selezione sessuale più che alla selezione naturale. Poi, che c'entra? Può essere anche che un animale che di norma non sapeva volare perché magari plunava e basta, allora con la magia impara a volare davvero. Senza, no, tipo uno scuillattolo volante diventa uno scuillattolo volante effettivamente e non solo uno scuillattolo planante. Quindi mi immagino in questo senso, e questo può essere vantaggioso, come dire la magia come enhancer di una certa caratteristica che già c'è, del tipo un cobra sputatore che non sputa semplicemente il veleno, ma ne sputa di più, è più grosso e il veleno brucia, cioè è infiammabile, sono accidenti, come side effect che uno non si aspetta. Oppure appunto uno scuillattolo volante che diventa volante davvero o un camaleonte che diventa invisibile, posto che in realtà i camaleonti cambiano colore in base allo stato d'animo, no? Non per mimetizzarsi con l'ambiente, però... No, veramente? Davvero, sì sì, non è... cioè non è che il camaleonte si guarda intorno e dice, quest'albero è marrone, divento marrone, no? È un discorso diverso. Wow! Però potrebbe con la magia essere molto più bravo a farlo e quindi diventa tipo... tipo Sobble dei Pokémon che quando si bagna diventa invisibile. Cosa del genere, ecco. O insetti che riescono a diventare più grossi, perché gli insetti hanno un problema. Cioè poracci non è che è un problema, diciamo hanno un sistema respiratorio che si basa sulla percentuale di ossigeno nell'aria e quindi oltre un tot non possono crescere per quel motivo, salvo che poi, vabbè, resterebbero schiacciati dal loro stesso esoscheletro, ma vabbè. Però diciamo anche che crescesse un po', siccome loro respirano non dalla bocca, ma da dei fori ai lati del corpo, che poi fanno dei tubicini che si diramano tutto dentro il corpo e portano l'ossigeno lì, l'aria ci risale spontaneamente dentro. Quindi se il tubicino diventa troppo grosso, perché l'insetto cresce, eh non c'è più, non è più, l'aria non c'entra così spontaneamente dentro e quindi diventa più un problema. Con la magia potrebbero riuscire a eliminare questo fatto e diventare effettivamente... Enormi. Prosto d'ondici. Io anche, sarebbe interessante veramente inventarsi un ecosistema dove le cose tornano in vita in qualche modo. Immagino una colonia di qualche animale sociale per cui i momenti di stress della colonia si rialzano e continuano a funzionare i corpi gestiti dall'alveare, perché c'è poco, per esempio, poco cibo e quindi hanno bisogno di più operaio o qualcosa del genere. Beh, potresti, lì potresti usare banalmente i parassitoidi. Ci sono effettivamente dei parassiti che rendono letteralmente degli zombie, quindi si può fare, cioè volendo. Che figo, scusa, spiegami questa cosa. Cioè, sì, io so, un fungo e una vespa che fanno qualcosa di genere. Sì, c'è il fungo, sono i cosi, i cordiceps o fiocordiceps si chiamano, sono dei funghi che parassitano gli artropodi, quindi ragni, insetti, eccetera. In sostanza, quando l'insetto o il ragno viene in contatto con la spora, il fungo ricresce sopra fondamentalmente e lo induce a trovare un posto dove andare, perché, diciamo, in quel posto le spore del fungo si propagano meglio. Quindi il fungo parassita la formica e gli dice, vai in cima a quella pianta, perché lì le spore mi escono meglio. Arriva lì, la formica si mette lì, ferma, finché il fungo non ha finito di crescere, poi tremendo, perché protrudono dal corpo, una roba tremenda. E poi a quel punto il fungo ha raggiunto questo scopo, ma ce ne sono altri, per esempio. Wow. Perché i parassiti hanno bisogno di fare il passaggio di specie a volte. Quindi il loro ruolo è anche riuscire a farsi portare dall'ospite intermedio verso l'ospite definitivo. Wow. E a volte lo fanno convincendolo, per esempio, banalmente ci sono dei vermi particolari, si chiamano nematomorfi, parassitano cavallette, grilli, mantidi. E a una certa l'adulto deve tornare in acqua, però il grillo non è un insetto acquatico, quindi cosa fa? Lo induce a suicidarsi gettandosi in acqua. Il grillo affoga. Ma quando dici lo induce, che cosa intendi? Eh, vabbè, la domanda da un milione di dollari. Diciamo in qualche modo non è chiaro, perché poi cambia da parassitone a parassitone, però diciamo in qualche modo hanno la facoltà di controllare il comportamento dell'ospite. Quindi c'è una campagna con dei parassiti come nemici, fantastica. E' quello che diceva la parte interessante, è anche la futilità della cosa. Perché comunque il nemico che prende il controllo dei corpi e li sostituisce, tutto c'è anche in molte robe. Ma pensare che lo fa soltanto perché deve spostarsi e migrare da un'altra parte o cambiare ambiente è ancora più devastante. Che tu lo combatti per anni per poi scoprire che quello che vuole fare è semplicemente cambiare regione geografica. Sì, sì, esatto, esatto. Assurdo. E questa cosa è tremenda, perché potresti averne un NPC con cui, che conosci da anni, o un membro del party potrebbe averlo e tu non lo sai. Fighissimo. È assurdo. Questo è interessante. Poi per il discorso dell'ecosistema è una bella sfida, perché quando si immaginano le cose da zero, comunque per forza di cose, visto che la nostra è banalmente l'esperienza di esseri umani, terrestri, è quella di ricondurre tutto a quello che vediamo sulla Terra. Sebbene ovviamente non c'è modo di saperlo, ma è lecito pensare che quello che governa, diciamo, i meccanismi evolutivi sul nostro pianeta, probabilmente li governa per massimi sistemi, sto parlando, anche su altri pianeti dove c'è la vita, bisogna anche cercare appunto di non scadere nel solito cliché, nel senso di fare l'alieno che è banalmente l'animale terrestre di un altro olore, che vive in un ambiente simile con le piante un po' diverse. Ecco, in questo appunto ci sono stato molto attento nel mio piccolo, quando ho fatto una collaborazione appunto con i ragazzi di Farsight, che tra l'altro appunto ho avuto modo lì di giocarci, perché comunque sono stato da ragazzi di Intele per giocare a Farsight, e quindi insomma l'ho anche provato con loro. Nel manuale di Farsight, che è un GDR fantascientifico, quindi ci spostiamo momentaneamente dal fantasy, ci sono del manuale degli alieni che ho ideato io, nel senso che siamo partiti da degli ecosistemi, in determinati pianeti che avevano per x motivi determinati ecosistemi, che animali ci stanno qua? E quindi ho creato da zero dei gruppi di animali parentati, cioè su ogni pianeta, tutti i mostri di quel pianeta che ci sono nel manuale sono imparentati tra di loro, cioè come se fossero lo stesso gruppo di animali, che si è diversificato. Paralmente, pensate ai mammiferi, ci sono i pipistrelli, ci sono le balene, ci sono i leoni e ci sono le vacche, cioè quindi sono molto diversi tra di loro, eppure sono tutti i mammiferi. Il concetto è questo. Quindi mi sono divertito a crearmi questi ecosistemi alieni, cercando anche proprio di integrarli col pianeta, nel senso c'è un pianeta che è molto attivo geologicamente, ricoperto principalmente da oceani, perché i continenti sono abbastanza effimeri geologicamente parlando, perché c'è continua risalita di materiale dalle viscere del pianeta, e questo fa sì che si innalzino e diciamo sprofondino abbastanza velocemente, geologicamente parlando, le isole. Quindi anche per questo la vita è principalmente nel mare, perché è chiaro che è abbastanza effimera la Terra. La cosa interessante è che comunque sia c'è una sorta di risalita di materiale anche che comunque contaminano l'acqua, c'è un sacco di metalli a base di, insomma, legati allo zolf, eccetera, che vengono appunto da questi camini idrotermali e questo materiale che risale. Ovviamente gli animali di questo pianeta ci hanno dovuto fare i conti, infatti si chiamano, li ho chiamati siderodonti, che vuol dire letteralmente denti di ferro, perché ho preso il concetto di una chiocciola marina molto figa che si chiama Crisomallon squamiferum, che praticamente riesce tramite dei simbionti a vivere in quest'acque piena di zolfo e a farcisi, diciamo, delle squame di metallo che usa come corazza, no? Alla faccia! E questa è una cosa vera, cioè esiste, eh? Sì, c'è la cotta di maglia. C'è la cotta di maglia, esatto. E l'ho traslata lì e ho detto, bene, se questi qua devono farci conti che ci hanno fatto con questa roba, ci hanno fatto non solo le corazze ma anche altro, infatti ci sono dei predatori che le hanno concentrate, queste secrezioni che sono nate come cosa per non morire intossicati, ma che poi sono state anche messe, diciamo, in punti strategici perché vantaggiose, e c'è quelli che le usano come denti, cioè per tagliare le prede, eccetera. E c'è tutto un ecosistema che ruota tutto attorno all'eccesso di questi metalli che vengono su. Per esempio ce n'è uno di questi animali, è la pneumobula, che vola e ha perso completamente la secrezione di questi metalli perché chiaramente vola. Vola e quindi un po'. Non solo ne ha meno, c'è meno a contatto, ma ha, diciamo, selezionato il corpo più leggero possibile e quindi ha perso queste secrezioni di metalli. Mi sono appena reso conto che una delle mie serie fantasy preferite probabilmente ha fatto un ragionamento simile al tuo, perché non so se conosci Sanderson come autore fantasy, ma è un autore che sta avendo successo relativamente recente e così via. In una delle sue serie è un mondo che è praticamente oscurato dai vulcani, no? E la magia si basa tutta sull'ingogliare metalli perché attivano vari poteri nel corpo e probabilmente non lo, come si dice, esplicita mai col mondo, però probabilmente ha fatto un ragionamento del genere. Perché mi ricordo che ci sono alcuni personaggi che usano la magia inadvertitamente perché bevono acqua che è praticamente avvelenata dai metalli pesanti che vengono rilasciati costantemente ai vulcani o che sono in più grande quantità nella cenere e quindi riescono ad usare la magia e pensano di essere fortunati, ma in realtà è perché stanno ingurgitando quantità di metalli che attivano il loro potere. Quindi ci sta. Questo è figo. Ci sta. E invece nel manuale di cui parlavi, diciamo di fianco ai mostri e alle loro statistiche, no? Immagini, eccetera. C'è tutto questo approfondimento su come li hai creati? C'è sul dietro le quinte? O diciamo appunto rimane dietro le quinte e c'è il risultato finale? No, c'è un pezzetto che introduce come gruppo questi animali. Questi tre pianeti hanno ognuno un trafiletto che spiega com'è il pianeta e le caratteristiche degli animali che ci vivono. Poi è chiaro, diciamo il dietro le quinte è molto più vasto. Ci ho approfondito, certo. Ovviamente mi sono fatto i filmoni fazzeschi, pensandoli, immaginandomeli anche coi suoni che facevano. Per cui sì, c'è. Ovviamente non è così approfondito com'è nella mia testa, però c'è un po'. Proprio perché c'era la volontà anche di dargli un attimo di contesto perché comunque sia dovevano essere, sì, degli incontri interessanti per i giocatori da un punto di vista non solo di interazione, quindi ovviamente c'è anche un compromesso perché sì, bello l'organismo sessile che non fa niente dalla mattina alla sera, è interessante, però se ci sto giocando di ruolo, diciamo, ecco, minimo devo avere modo di interagirci perché sia interessante. Perché gli XP alla fine li vogliamo in modo l'altro. No, però, per esempio, cioè, volevo anche che fosse percepito come cosa verosimile, per esempio, in un altro pianeta dove c'è un gruppo di animali che si chiamano venabulostomi, ce n'è uno che si è evoluto come, diciamo, predatore ematofago, quindi mangia il sangue, che in questo pianeta è verde di questo gruppo di animali perché ha un pigmento respiratorio diverso dal nostro. Non ha l'emoglobina ma la clorocorina, quindi è verde. È interessante perché è tipo un grosso cane come dimensioni e si attacca, appunto, per succhiare il sangue a dei dentacci assurdi, a degli animali che sono giganteschi e quindi manco se ne accorgono, no? Però come li individuo? L'individuo col calore, percependo il calore tramite delle fossette termine tipo quelle dei pitoni. E questo cosa comporta? Siccome questi animali sono corazzati, hanno una pelle spessa, le sue, tra virgolette, prede, e quindi ha una dentatura adatta tipo a mordere in profondità, a scavare, a infossare, a rompere, diciamo, la roba dura. E cosa succede? Succede che i giocatori di notte arrivano lì, cioè poi notte, in realtà c'è un tramonto cremesi fisso su cui pianeta con questo altro discorso. Arrivano lì, parcheggiano la loro astronave, navetta, quel che è, che comunque è una roba abbastanza grossa, tutti tranquilli. Ovviamente i motori sono caldi, no? Esatto. Perché una navetta ci mette un po' a raffreddarsi. E di solito sono molto bravo a diffondere il calore, perché quando si è nello spazio in qualche modo... Loro sono lì, che dormono, la mattina si svegliano, e la loro navetta c'è il motore squarciato. Oibo, e ora? Come facciamo? Perché la prossima notte quelli che fanno calore si è a noi. E qua è la prossima stagione del podcast, quando hai tempo e quando avremo tempo tutti. Magari ti rinvitiamo per passare proprio in rassegna e manuale e ci racconti come sono venuti alla luce, cosa hai pensato e come li useresti. Ah, assolutamente. Sì, sì, se volete ci mancherebbe. Fa piacere. No, prima ti facevo la domanda, perché visto che il tuo interesse primario è la divulgazione scientifica e la didattica ludica è sempre più accettata e incoraggiata, fortunatamente, volevo sapere se hai mai pensato di unire la tua passione per il gioco di ruolo alla passione per la divulgazione. Quindi pensi sia fattibile e hai intenzione di farlo eventualmente, cioè costruire un gioco di ruolo o un gioco in scatola che aiuti a passare dei concetti fondamentali rispetto alla zoologia o all'evoluzione, cioè banalmente appunto un manuale di mostri o di alieni dove però non c'è soltanto l'introduzione ma c'è anche tutto il processo che hai fatto dietro le quinte. Sarebbe bello. Allora, questa roba sta avendo abbastanza spazio. Per esempio, c'è un progetto adesso di cui ti recupero subito il nome che è in sostanza una sorta di manuale, diciamo, per D&D quinta edizione. È un supplemento per D&D unofficial che si chiama Dr. Drollins Dictionary of Dinosaurs. Che è praticamente un manuale di ambientazione con soprattutto mostri eccetera che in realtà sono dinosauri e altre creature preistoriche. La cosa bella è che è fatto da paleontologi e le illustrazioni di questo manuale le fa Mike Whitton che è un paleontologo e paleoartista. Quindi in realtà questo è un supplemento per D&D tra virgolette scientificamente accurato sulla fana preistorica. Perché io non sapevo che esistesse ancora? No, no, no. Ce ne ha parlato Filippo. Ah, ok. Sì, sì, sì. Ce ne ha parlato Filippo forse un anno fa. È uscito da pochissimo. Sì, sì. È uscito da pochissimo. Sì, forse, diciamo, una roba ci avevamo pensato anche io e lui a farla. Poi, vabbè, per vari problemi è rimasta lì. Poi hanno fatto questa. Quindi, vabbè, a questo punto vi rimando a questa. Però sì, è molto figa questa cosa perché vedo che comunque molto spesso i due temi si sovrappongono. Poi io non ho le competenze per farlo, però mi piacerebbe sicuramente farlo. Cioè, nel mio piccolo ci ho dato dentro con Farsight perché mi proprio, cioè, godevo proprio nel pensare tutte queste cose qua e un gioco di ruolo che sia un supplemento per D&D o quel che è o anche un gioco da tavolo. Anche il mondo dei giochi da tavolo mi piace molto e mi piacerebbe molto esplorarlo in questi termini. Mi piacerebbe, sì, sì. Ti direi come cosa, diciamo, da fare prima o poi un gioco da tavolo mi piacerebbe basato proprio su un qualcosa a cui tengo che possa essere i dinosauri, gli insetti, boh, non so. Comunque sì, un qualcosa legato alla divulgazione sotto forma di gioco che sia da tavolo, di ruolo, eccetera, mi piacerebbe molto farlo perché con Farsight mi sono divertito un sacco e vedere poi gente che invece, cioè, che mi incoraggiava quando mi facevo tutte le stesse segmentali e diceva ah figo sto coso, eh. Vabbè, era una cosa stupenda. Dalle mie parti si dice invitare il matto a fare assassate. È esattamente questo, eh. È esattamente questo, sì. No, no, viene usato tantissimo nel fantasy nella fantascienza moderna. Sta venendo fuori veramente tante cose di world building ultra realistico. Cioè, ultra... Diciamo, con forti basi scientifici o forti ispirazioni scientifiche quindi è molto, molto figo. No, si vede anche nel fantasy banalmente è una cosa che mi ha sorpreso senza meriti sulla serie entrare però la dico proprio così. Negli anelli del potere ci sono un paio di cose che sono letteralmente prese dalla preistoria e schiaffate lì. Cioè, in una scena c'è un... insieme nella sala del Trono di Duri in qualcosa del genere ci sono due grossi artigli dietro che sembrano letteralmente degli artigli fossili di un qualche dinosaurio predatore e in un'altra scena una scena con i pelopiedi dove sono nel bosco che stanno scappando da dei lupi, eccetera in realtà non sono lupi ma sono letteralmente degli entelodonti neanche fatti troppissimo male devo essere sincero. Ne ho visti di peggiori. Gli entelodonti sono questi animali parenti un po' degli ippopotami insomma in passato dicevano erano parenti dei suidi sì, sono parenti dei suidi ma li hanno un po' spostati sono un po' più parenti degli ippopotami adesso se non ricordo male che sono questa sorta di maialoni giganteschi con i dentoni enormi questi crani giganteschi con questi zigomi prominenti tutti spaventosi veramente spaventosi quelli ve li consiglio tipo anche perché erano ovviamente giganteschi pensare di uno di quelli e ti carica è devastante quindi entelodonti scopriteve lì perché sono degli ottimi ottimi mostri sì 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 e allora io ti faccio un'ultima domanda che facciamo ogni ospite che è se dovessi iniziare a giocare a una campagna di Dungeons & Dragons ora quale classe giocheresti e perché? ma allora direi ranger la mia classe è il ranger però però il ranger cattivo nel senso cattivo nel senso il ranger da combattimento cioè non quello che tira frecce da lontano non quello che fa le sue osine no no quello che si butta cioè nel senso io la mia visione del ranger è molto meno aulica è molto più grezza cioè uno che lo scarichi in una foresta ti mangia la roba cruda non gli viene la cagarella perché c'ha degli anticorpi grossi antun passerotto ed è capace di scuoiarti e non te ne accorgi per me è questo il ranger infatti il mio personaggio era così perché mi ero anche messo in realtà mi ero fatto una classe ombrio io che riprendeva un po' il ranger di quinta edizione di Anerted Arcana che piaceva mi piace molto come impostazione e ci mixava delle cose del guerriero per comunque più delle altre cose prendeva un po' l'archetipo del guerriero brutto quindi comunque che è anche quello di Anerted Arcana quindi picchiava di brutto cioè era un ranger che sapeva sopravvivere sapeva vedere le cose gli animali trovare le tracce nascondersi far agguati e in combattimento ti macella praticamente questa è la mia idea del ranger il personaggio tra l'altro era anche un è anche un dinosauro antropomorfo di due metri grosso enorme tipo quindi sarai molto contento di vedere la prossima versione di Dungeons & Dragons perché in 1D&D sembrerebbe che il ranger diventerà una classe molto più da combattimento che ah sì questa non lo sapeva non lo sapevo non ho ancora approfondito ma vedremo vedremo nel frattempo noi ti ringraziamo Willy di essere stato con noi ci hai detto un sacco di cose interessanti e ti aspettiamo a questo punto nella prossima stagione o quando sarà per sfogliare assieme il manuale di Farsight e scoprire tutti gli alieni mostri che hai costruito certo volentieri anzi grazie a voi per avermi invitato a me insomma mi fa sempre piacere venire a blaterare delle mie cose da chi diciamo non le trova noiose quindi grazie mille spero appunto che anche chi mi ha ascoltato abbia trovato insomma qualche spunto interessante su quello che ho detto insomma per me non è non è scontato quindi grazie grazie Giada e grazie Emilio e grazie ovviamente a tutte le persone che mi hanno ascoltato in questa puntata grazie a te vedrai che sono super nerd del nostro pubblico quindi apprezzeranno di sicuro tutte queste informazioni esatto e salutiamo anche tutti come sempre non abbiamo una chiusura esatto al prossimo lunedì al prossimo lunedì grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti